È stato il musical Il Gobo di Notre Dame chiude le sabato sera al Vittoria Colonna la manifestazione dell'ASP denominata Cardiologia Aperte. Una struttura semplice, luci a effetto, coreografie, tanta tanta voce, quella dei ragazzi, dai più piccoli delle scuole elementari e quelli degli istituti superiori. Due ore che hanno appassionato e provocato qualche momento di riflessione. Parliamo di ragazzi che per ben quattro mesi hanno provato e riprovato il copione senza risparmiarsi, con impegno e tanto entusiasmo. Un'esperienza di vita che ha registrato una forte coesione tra questi giovani studenti. Queste le parole della signora Gabriella Aiuto Regista che insieme a regista Luigi Denaro hanno messo in piedi lo spettacolo. L'evento musicale di sabato va a concludere la manifestazione nazionale Cardiologia Aperte che ha visto i medici e tutto il personale del reparto cardiologia del Guzzardi in prima linea con diverse iniziative. I proventi della vendita dei biglietti del musical saranno destinati a finalità benefiche acquistare un defibrillatore da donare ad una scuola sorteggiata a caso tra quelle che ancora non lo possiedono.